A Melbourne gli Australian Open hanno regalato al tennis un'altra memorabile pagina, un miracolo che è il volto di un ragazzo di 22 anni, capace di superare se stesso e vincere una partita apparentemente compromessa senza speranza. Yannick Sinner ha ribaltato il corso della finale agli Australian Open e sconfitto il russo Medvedev tirando fuori tutto quello che aveva fino all'ultimo secondo. A Napoli grazie al maestro d'arte presepiale Jenny Di Virgilio, a San Gregorio almeno anche il tennista alto telesino fresco vincitore degli Australian Open, entra e fa parte della lunga lista di personaggi raffigurati nel presepe. Maglia, pantaloncini e cappellino bianco, in mano alla racchetta e il trofeo che gli è stato consegnato a Melbourne, il primo slam di un atleta azzurro a distanza di 48 anni dall'ultimo. L'omaggio del maestro Di Virgilio al giovane tennista, ecco le sue parole. Sì, sono felicissimo che abbia vinto lui perché veramente è un grande, un giocatore veramente, un professionista ad altissimi livelli e per me lui sarà proprio il futuro del tennis. La gente l'ha apprezzata tanto, i turisti veramente sono andati a ruba per acquistarla. Poi ovviamente con la grande vittoria dell'altra sera è normale che c'è ancora più entusiasmo per l'acquisto.